Ben 8 italiani su 10 ignorano che il fumo passivo provoca il cancro. Il 25% della popolazione del nostro paese è esposta ai pericoli di questo tipo di fumo. Il livello di conoscenza su questo problema è molto scarso. Tutto emerge da un'indagine dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica presentata oggi al Circolo della Stampa di Milano e che ha riguardato 3.000 persone. Il 48% degli intervistati pensa che questo tipo di tumore non si possa prevenire e purtroppo ben il 49% dei fumatori afferma di fumare anche in presenza di bambini e solo il 45% afferma di essere disponibile a cambiare stile di vita. Il tumore al pomone causa 38.000 malati all'anno, il 30% sono donne, rappresentano l'11% di tutti i nuovi casi di cancro nella popolazione. Nel 2013 sono stati 34.000 i decessi per carcinoma polmonare. Troppi ragazzi ancora nelle scuole cominciano a fumare a 13, 14, 15 anni e noi sappiamo che il danno poi diventerà additivo negli anni successivi al di là di un costume che io penso che noi dobbiamo modificare. Per sensibilizzare l'opinione pubblica è stato deciso di dare il via a una campagna di informazione. Aio mi inizierà questa campagna contro il fumo passivo, contro questa educazione al modello di fumo di sigarette. Secondo i medici bisognerebbe estendere il divieto di fumo. Mi viene di pensare agli stadi, ai parchi oppure ad ambienti appunto nei quali è possibile purtroppo assumere il rischio del fumo passivo e poi interventi siano interventi educativi e di formazione ed informativi.